Sopra ogni città c'è lo stesso cielo ed ogni abitante può alzare lo sguardo con speranza. Gesù, Dio è uomo vero, col suo corpo di uomo è un cielo. E questa è la nostra speranza, è l'ancola nostra che è là e noi siamo saldi in questa speranza se guardiamo il cielo. In questo cielo abita quel Dio che si è rivelato così vicino da prendere il volto di un uomo, Gesù di Nazareth. Egli rimane per sempre Dio con noi. Ricordiamo questo, Emanuele, Dio con noi e non ci lascia soli. Possiamo guardare in alto per riconoscere davanti a noi il nostro futuro. Questa è la testimonianza, fatta non solo con le parole, ma anche con la vita quotidiana. La testimonianza che ogni domenica dovrebbe uscire dalle nostre chiese per entrare durante la settimana nelle case, negli uffici, a scuola, nei luoghi di ritrovo e di divertimento, negli ospedali, nel carcere, nelle casse per gli anziani, nei luoghi affollati di immigrati, nelle periferie della città. Questa testimonianza noi dobbiamo portarla ogni settimana. Cristo è con noi. Gesù è salito al cielo. È con noi. Cristo è vivo.